Superati 100.000 vaccinati in Italia in una settimana, prosegue tra perplessità e polemiche la campagna vaccinale in Italia, che con 109.454 vaccinati è al secondo posto in Europa, dietro alla Germania, per numero di somministrazioni. Ad attaccare il piano vaccini messo a punto agli esperti e dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e anche la ministra per l'agricoltura Teresa Bellanova, che parla di insufficienza e poca chiarezza. Ma i ritardi e le problematiche legate alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione mettono in apprezzione anche altri membri dell'esecutivo e i tecnici. Sotto i riflettori è finita la Lombardia, che con il suo 3,8% di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi ricevute, è ancora in quota alla classifica sulle somministrazioni. Quella graduatoria è agghiacciante, tuona l'assessore alla salute della Lombardia Giulio Gallera. I sette governatori leghisti, da Fontana a Zaia, passando anche per quelli di Sardegna, Fruli, Calabria, Umbria e Trentino, chiedono in coro di garantire subito quanto promesso al governo, personale sanitario per effettuare le vaccinazioni, per non rischiare di mettere ulteriormente sotto stress un sistema già stremato. Il Lazio svetta in classifica tra i territori virtuosi, con 22.225 vaccinati, è in effetti la regione con il più alto numero di vaccinazioni in assoluto ed anche quella con la più alta percentuale di vaccinati, 48,5%, sul numero di dosi consegnate, 45.805. Quinta invece è la Campania, con una percentuale del 19,7% di dosi somministrate su quelle arrivate. Intanto è risultata positiva al Covid-19 una dottoressa dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo. Secondo quanto confermato dall'azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere sottoposta al vaccino e sabato è stata ricoverata. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, spiega che la protezione immunitaria è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino. Negli articoli scientifici, osserva Locatelli, è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva e lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni, conclude, per non abbandonare i comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati.